Buonasera, buonasera a voi. Non sono riuscito purtroppo a fare la live per tutti i motivi che probabilmente siete riusciti anche un po' a vedere attraverso alcune immagini che sono rivenute, attraverso altre stream. Abbiamo cercato di riunirci e di arrivare in un altro luogo, ma è stato praticamente difficile perché le persone non riescono ad arrivare. E adesso perlomeno stiamo cercando di arrivare al palazzo della regione perché crediamo che sia un nostro diritto manifestare in maniera civile, in maniera tranquilla come è sempre stato il nostro modo di agire e anche in questa circostanza lo vogliamo fare. E' chiaro che non possiamo farci intimidire. Mi dispiace per alcuni interventi di oggi che non hanno compreso, ma dovete sempre tenere presente che siamo super controllati e quindi talvolta bisogna agire anche in maniera intelligente. E questo è quello che abbiamo cercato di fare. Ora siamo abbastanza vicini, ci siamo riusciti in qualche modo ad arrivare nei pressi del palazzo della regione e spero da lì di mandarvi delle live oppure perlomeno di mandare dei video. Ci sentiamo più tardi.